Camilla, la duchessa di Cornovaglia ha dieci nipoti e nipoti, e la futura regina consorte ha accennato a come li adora in una nuova intervista. Allora, com'è il rapporto di Camilla con i suoi nipoti? Attraverso il suo matrimonio con il principe Carlo, Camilla, la duchessa di Cornovaglia conta i figli di Cambridge Prince George, Princess Charlotte e Prince Louis e i figli del Sussex Archie e Lilibet, come suoi nipoti. Ma ha anche cinque nipoti attraverso i suoi figli Tom Parker-Bowles e Laura Lopez, Lola, Frederick, Eliza, Gus e Louis. Camilla è una nonna devota e in una recente intervista ha toccato il suo stretto rapporto con tutti i suoi nipoti, per celebrare il suo. 75 gradi compleanno quest'anno, Camilla ha detto a British Vogue che ama viziare i suoi nipoti e che spesso va a prendere una nipote a scuola quando è nelle vicinanze per trascorrere del tempo insieme. Ha detto a G Lettersly della rivista, sai che la cosa bella dell'essere una nonna è che puoi viziarli di tanto in tanto, dare loro più delle cose che i loro genitori proibiscono loro di avere. Uno è in una scuola molto vicino a casa mia, quindi quando sono nel Wiltshire e i suoi genitori sono via, posso passare a prenderla e portarla a casa. Le ragazze stanno iniziando a truccarsi e vestiti e, sai, è piuttosto spaventoso quando le vedi. Che escono con i piercing alle orecchie e un sacco di trucco nuovo e capelli dai colori buffi e cose del genere, nell'intervista, Camilla ha anche accennato al modo in cui scrive ogni giorno a una delle sue nipoti i punteggi ottenuti nel popolare gioco quotidiano online, Wordly ha aggiunto, è molto bello ricevere un messaggio. Impariamo dai giovanissimi e anche loro imparano da noi. È sempre stato così. Oltre a mandare messaggi e passare del tempo insieme dopo la scuola, la lettura è una parte importante del lavoro reale di Camilla, e ha parlato di come coinvolge anche i suoi nipoti nel passatempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.